Oggi vi portiamo un video in cui esploreremo oggetti affascinanti che sono stati scoperti in diverse parti del mondo, ma che non hanno una spiegazione chiara per il loro tempo. Queste scoperte mettono alla prova la nostra comprensione della storia e dell'evoluzione umana. Numero 1. La pietra di Roswell è un oggetto misterioso che ha suscitato grande interesse e dibattito tra gli investigatori del paranormale, gli ufologi e gli appassionati di UFO. Il manufatto è stato scoperto negli anni 2000 nel Nuovo Messico, vicino al luogo del famoso incidente di Roswell del 1947, quando un sospetto UFO si schiantò nella regione. La roccia in questione è di piccole dimensioni, circa le dimensioni di una mano, ed ha forma ovale dal peso notevole. Ciò che veramente risalta della pietra di Roswell è il disegno sulla sua superficie, una serie di incisioni geometriche che includono un cerchio attraversato da una linea retta. Oltre ad altri simboli complessi che ricordano quelli che si trovano sui cerchi dei raccolti. Un aspetto particolarmente interessante della pietra di Roswell è il suo insolito magnetismo. È stato dimostrato che la roccia ha proprietà magnetiche che non sono comuni in oggetti di questo tipo. Alcuni ricercatori hanno sottolineato che questo magnetismo potrebbe essere correlato alla sua origine o al suo possibile scopo, anche se non esiste una spiegazione conclusiva al riguardo. Queste incisioni e il loro magnetismo hanno portato molte persone a speculare sulla loro origine extraterrestre, poiché i disegni sembrano troppo precisi ed elaborati per essere opera della natura o dell'uomo. Inoltre, l'insolito magnetismo della pietra aggiunge un ulteriore strato di mistero alla sua storia. Tuttavia, la comunità scientifica ha espresso scetticismo riguardo alle affermazioni di un'origine extraterrestre per la pietra di Roswell. Sono state effettuate analisi e test di laboratorio per determinarne la composizione e la possibile origine. Ma non è stata trovata alcuna prova conclusiva a sostegno della teoria che la roccia provenga da un altro mondo. Alcune teorie alternative suggeriscono che la pietra potrebbe essere un'opera d'arte o un oggetto creato dall'uomo proveniente da una cultura passata. Nonostante le controversie, la pietra di Roswell rimane oggetto di interesse sia per i ricercatori che per il grande pubblico e la sua origine e il suo scopo restano un mistero irrisolto. Numero 2. Il cuneo degli Aiuti. Circa 50 anni fa, un gruppo di minatori trovò un oggetto così strano che molti sono arrivati a credere che provenisse dallo spazio. È stato scoperto sulle rive del fiume Murea Dayut, in Romania, quando i minatori erano alla ricerca di qualcosa di completamente diverso, due ossa di mastodonte. Ma non era tutto. A più di 10 metri di profondità, hanno trovato un oggetto senza data, senza scopo, senza una spiegazione chiara e senza una funzione apparente. Si chiamava oggetto di alluminio o cuneo di Aiud. Il fatto che il cuneo di Aiud manchi di antichità e di scopo lo rende molto confuso. Anche la sua posizione è molto strana, poiché è improbabile che tra le ossa di una bestia estintasi 11.700 anni fa sia possibile scoprire un oggetto realizzato con materiali appena scoperti. A complicare ulteriormente le cose, questo oggetto era ricoperto di patina, un rivestimento che impiega migliaia di anni per svilupparsi. Inoltre questo oggetto potrebbe anche passare per moderno, poiché è realizzato con un materiale indifferenziabile dall'alluminio odierno, qualcosa che avrebbe dovuto esistere 11.000 anni fa. La posizione e la data che circondano questo oggetto non coincidono, nella sua forma sembra servire ad alcuno scopo apparente. Si sospetta che abbia origini extraterrestri, ma non esiste una teoria valida. Numero 3. L'elicottero di Abidos. Dopo tutto quello che abbiamo visto, potrebbe sembrare un po' più semplice, ed è molto probabile che si tratti solo di pareidolia. Tuttavia, immagina che le immagini incise su questo antico geroglifico egiziano siano davvero quello che sembrano, un elicottero, una specie di nave o quest'altro oggetto che molti ipotizzano possa assomigliare a un'auto moderna o a un carro armato rovesciato. Senza dubbio sarebbe qualcosa di spettacolare e aprirebbe la possibilità a molte nuove teorie. Numero 4. Aerei precolombiani. Quando parliamo di antiche reliquie che rappresentano la tecnologia avanzata. Uno degli esempi più singolari è quello di una piccola statuetta d'oro che ricorda notevolmente un aereo moderno. In effetti, è considerata una prova molto importante per l'antica teoria degli astronauti. Nel 1997, gli esperti dell'aviazione tedesca decisero di testare le capacità di volo degli aerei precolombiani costruendo un modello in scala dotato di carrello di atterraggio e motore. È stato abbastanza semplice perché non c'era quasi bisogno di aggiungere parti al modello, nulla intaccava la perfezione del suo disegno. Tutto era stato realizzato da quegli indigeni più di 2000 anni fa. Una volta completato, il modello telecomandato è stato testato su una pista improvvisata, è decollato e ha volato. E dimostrò quanto fosse perfetto il design aerodinamico creato da questo antico popolo, indicando che dovevano aver assistito a qualcosa di simile. Non è spiegato come, ma deve essere stato così. Numero 5. La sfera di Betz. Nel 1974, la famiglia Betz trovò una misteriosa sfera metallica mentre esplorava un terreno appena acquisito in Florida. La sfera, di circa 20 centimetri di diametro, sembrava avere proprietà magnetiche e un comportamento peculiare, poiché emetteva strani suoni quando veniva toccata. I tentativi degli scienziati di spiegarne l'origine e la funzione non hanno avuto successo, e fino ad oggi la sfera di Betz rimane un enigma irrisolto, generando teorie che vanno dalla tecnologia extraterrestre a fenomeni naturali sconosciuti. Numero 6. Il disco Dropa è un oggetto enigmatico scoperto in una grotta nella regione cinese di Bayan Karaula nel 1938. Si compone di una serie di dischi di pietra su cui sono incisi strani simboli non ancora decifrati. Si stima che abbiano più di 10.000 anni. La storia dietro la scoperta ha alimentato teorie sui visitatori extraterrestri e sulle antiche civiltà avanzate. Si ritiene che i dischi siano associati a una tribù chiamata Dropa, descritta nelle leggende locali come esseri piccoli e fragili. Sebbene alcuni ricercatori abbiano suggerito che i dischi potrebbero essere la prova di passati contatti alieni, altri li considerano come una possibile rappresentazione della cultura e della tecnologia di un'antica civiltà umana. L'autenticità e l'esatto significato dei dischi Dropa rimangono argomenti di dibattito e speculazione nella comunità scientifica. Numero 7. Candela. Nel 1961, Wallace Lane, Virginia Maxey e Mike Mikesell fecero un'interessante scoperta vicino a una barca in California. Non si trattava di una normale candela, ma di una che sembrava provenire da un'epoca in cui le candele ancora non esistevano. Questo oggetto fu in seguito conosciuto come il Manufatto Koso. Inizialmente si ipotizzò che si trattasse di un oggetto smarrito, che forse indicava la presenza di un'antica civiltà avanzata o altre spiegazioni straordinarie. Come il Martello di Londra, il Manufatto di Koso era racchiuso in quella che sembrava essere una formazione naturale di 500.000 anni, diventando immediatamente insolita. L'età apparente del Manufatto suggeriva che potesse trattarsi di un oggetto smarrito. Trovare una candela moderna in una formazione geologica apparentemente antica ha portato a speculazioni su viaggi nel tempo, antiche civiltà avanzate o interventi extraterrestri. Sebbene inizialmente si pensasse che il materiale circostante fosse un geode che impiega molto tempo per formarsi, molti credono che il Manufatto di Koso, come il Martello di Londra, sia probabilmente una bufala. Nonostante i dubbi, resta una delle scoperte più intriganti dell'era contemporanea. Numero 8 Il Martello di Londra Il Martello di Londra è una delle zuppe che mi piacciono di più, per il cambiamento nella storia che la sua esistenza comporta. Ci sono molteplici teorie che cercano di confutarle, da persone che credono che non sia un martello ma fosse una forma della natura molto capricciosa, e l'altra che la roccia abbia avuto origine attorno ad esso nel tempo. Ma cosa rende questo piccolo martello così interessante? Ebbene, la sua origine è datata né più né meno che tra 145 e 66 milioni di anni fa, cioè nell'era dei primi dinosauri, anche prima del Giurassico. Il che sostanzialmente afferma che questo oggetto in realtà non dovrebbe nemmeno esistere, e nel caso ve lo stiate chiedendo, no, in quell'epoca, sostanzialmente, non esistevano esseri umani. Questi e altri oggetti che vedremo oggi continuano a essere un mistero per ricercatori e scienziati. Cosa ne pensate di queste scoperte? Hai qualche teoria sulla sua origine o sul suo scopo? Lasciaci i tuoi commenti e non dimenticare di iscriverti e mettere mi piace. Grazie.